La Basilica di San Pietro suonano, mentre Papa Francesco con il Santissimo, lo stensorio, si porta dinanzi al cancello della Basilica di San Pietro, che segna con il conoce la città. La città di Roma, l'Italia e il mondo interno. La Basilica di San Pietro, la Basilica di San Pietro,